Salve, mi chiamo Eugenio Di Carduccio e sono candidato nella lista Sinistra e Cambiamento con Dario Abbate, Sindaco. Ho sposato innanzitutto questo progetto per quanto riguarda la parte sociale, cioè praticamente Marcianise è una grandissima città, però ha molte pecche, tra cui praticamente non c'è una struttura per anziani, ho visto una struttura per quanto riguarda una zona di Marcianise che è via Gemma, che è abbandonata a se stesso, quella struttura praticamente l'ex amministrazione volevano fare dei parcheggi per una banca, secondo me è più giusto fare una residenza per anziani, perché? Perché a Marcianise di residenza di anziani non ce ne sono. Perché votare per me? Perché votare Dario Abbate? Per me votare Dario Abbate è perché è l'unica persona che in questo momento storico può amministrare questa città per cinque anni, perché una persona competente, una persona qualificata è votare me perché io ho sposato pienamente il suo progetto.